Ovviamente per l'evento nessuno dei miei personaggi che avete già visto farò un'imitazione tutta nuova che è quella di Cristiano Ronaldo e per l'occorrenza voglio dire colpi di classe, dribbling a go-go Ovviamente se scendiamo in campo così numerosi e così partecipi innanzitutto che ci fa piacere il gioco da San Paolo, io lo voglio dire però ovviamente ancora di più a parte gli scherzi per lo scopo nobile che abbiamo sposato tutti quando si tratta di solidarietà voglio dire sia sempre in prima linea almeno per quanto mi riguarda